La promozione è l'unico campionato che ancora non è giunto al termine, gli ultimi 90 minuti lasciano in sospeso molti dei verdetti. Fino ad oggi l'unica certezza è la retrocessione della Poliziana, ma saranno gli ultimi 90 minuti a decidere chi tra Incisa e Vaggio Piendisco accompagnerà direttamente la compagine di Abbadia di Montepulciano in prima categoria. In Casa Bianca Azzurra infatti serve una vittoria con il traguardo dei play-out, agguantato eventualmente proprio al triplice fischio in caso di sconfitta del Vaggio Piendisco e chi eviterà la retrocessione diretta dovrà spareggiare poi ai play-out con il Laterina, unica squadra certa della situazione ma non della posizione, visto che è solo a più due dai ragazzi allenati da Sansone e cui destini però si incrociano in questa domenica con la voglia di vittoria del campionato del Punta Sieve, cui a propria volta servono tre punti nello scontro diretto casalingo per lasciare dietro Foiano e Bucinese, ad oggi quest'ultima con ogni probabilità terza forza definitiva del campionato, visto che in caso di arrivo a pari punti del Foiano i Chianini sono avvantaggiati dalla differenza reti globale ed entrambe le avversarie dirette, Subbiano e la suscitata poliziana, sono ormai senza stimoli.